Si chiude il girone di andata dell'Avimec Vole Modica con un finale perfetto caratterizzato da una vittoria per 3-1 sulla Falù Ottaviano tra le muremiche del Palarizza. Dopo 11 gare, la squadra formata dal direttore sportivo Cassiba si è fermata al quinto posto in classifica, migliorando di molto i risultati dello scorso anno e dimostrando di poter essere competitiva in questo girone blu. Il primo set inizia bene per la squadra di casa che si porta in vantaggio fino all'8-5 e sembra poter controllare una gara comunque molto equilibrata e combattuta. Busce e compagni riescono a resistere spesso agli attacchi dell'ex Ansic, che è comunque il più pericoloso dei suoi. Il vantaggio si mantiene fino al 19-18 con un punto a punto serrato fino al sorpasso della squadra ospita al 19-21, che condanna col tempo la squadra della Contea al 22-25. Il secondo set richiede una grande spinta per far tornare il punteggio in parità e non rischiare in alcun modo di andare sotto di due set. Martinez cerca di suonare la carica per i suoi e a spingere al massimo. L'inizio è un punto a punto che porta al momentaneo 8-7, con la squadra di casa che allunga sul finale fino a raggiungere il 21-16. Il finale arriva con l'esultanza della panchina con il finale di 25-20. Al terzo set si gioca per il sorpasso, Modica spinge e si porta avanti fino al 16-11, con una prova convincente e di grande decisione. Il quarto set è il preludio di una battaglia tra la squadra di casa, che vuole chiuderla, e Oteviano, che cerca un punto e la possibilità del tie-brick. La durata è di 33 minuti, il set più lungo, ma con Chillemi e Garofolo che spingono e tengono alta la tensione dei suoi. Questa volta il vantaggio di 21-12 viene mantenuto e la gara si chiude con la vittoria di Modica 25-17.